Buongiorno, vediamo insieme i titoli del nostro giornale. È sempre molto grave la situazione nelle valli lombarde colpite dall'alluvione, mentre si intensificano le operazioni di soccorso. In Valtellina il tempo è migliorato. Il partito socialdemocratico di Cavaco Silva ha ottenuto la maggioranza assoluta alle elezioni politiche in Portogallo, netto calo dei comunisti di Cugnoal. Nel pomeriggio riprendono le consultazioni di Goria per la definizione del programma della maggioranza e della struttura del nuovo governo. Forse a fine settimana il presidente incaricato potrà già portare la lista dei ministri al presidente della Repubblica, Corsiga. Sembra essersi volatilizzato Renato Valanzasca, il bandito fuggito due giorni fa nel porto di Genova. Era già sbullonato, questo è un particolare importante, ripeto, era già sbullonato l'oblò della nave attraverso il quale è fuggito. Positivo bilancio, infine, dello sport azzurro alle Universia di Vizzagaria. La situazione nelle valli della Lombardia, investite dall'alluvione, in particolare la Valtellina, è sempre molto grave. Sono ancora interrotte alcune delle strade principali, come la statale 38, poco sopra Morbegno, mentre continuano ad essere isolati numerosi paesi. Situazione particolarmente seria a Tirano, ancora isolata a Sondrio, dove ieri sono stati sgomberati alcuni quartieri. Il bilancio delle vittime, che sembra purtroppo destinato a salire, è per ora di 14 morti e 16 dispersi, molte decine feriti. Enormi danni a case, strade, impianti industriali, numerosi i paesi e le frazioni sgomberati. Per fortuna questa mattina non piove più e la pausa, nell'ondata di maltempo, consente di impiegare al massimo le migliaia di uomini dell'esercito, dei corpi di polizia, dei vigili del fuoco, coordinati dalla protezione civile. Ma vediamo i servizi dalle zone più colpite. Dalla Valtellina a Giampiero Beltoto con l'operatore Antonio Leo. In tutta la valle prosegue l'emergenza. In questo paese oggi i carabinieri hanno portato i primi soccorsi. Questa gente è rimasta senza cibo per da tre giorni. Stamane sono stati trovati tre pullman. C'era della gente dentro, non se ne sa nulla. Vediamo la situazione in generale. Finora il bel tempo facilita le operazioni di soccorso e di prevenzione contro lo sciacallaggio, anche se si teme una nuova perturbazione. I morti accertati sono dieci, ma sulle cifre non c'è evidentemente sicurezza. Sette persone finora certamente sono morte nella scigura del Gran Baita, l'albergo spazzato via da una frana. Ma si continua a scavare, soprattutto a Tartano, il paese più colpito dal disastro. Nei tre ospedali della zona, Bormio, Morbegno e Sondalo, sono ricoverate una sessantina di persone. Alcune grosse località, Chiavenna e Caspoggio, sono isolate. La statale 38, che percorre tutta la valle da Morbegno in su, è stata cancellata. Gli elicotteri, quelli dei carabinieri e dell'aeronautica militare, sono gli unici mezzi di trasporto e di collegamento. Ma i fili dell'elettricità costituiscono un grosso problema. Pochi minuti fa abbiamo saputo che in Val Brembana un elicottero è precipitato, tre feriti. La situazione più critica oggi qui in Valtellina è dalle parti di Tirano. A Tirano ci sono stati, anche stamattina, degli sfollamenti che si aggiungono alle migliaia dei giorni scorsi. Il disastro, come dicono gli esperti, ha mutato la conformazione idrogeologica della Valtellina. La zona attorno a Morbegno sembra un grosso lago. Non termina l'emergenza sanitaria. Negli acquedotti ci possono essere state infiltrazioni. L'acqua deve essere bollita prima di poter essere bevuta. Un'ultima notizia. A causa del disastro salteranno i campionati del mondo di basket previsti a Bormio. Dovevano incominciare fra tre giorni. Dalla Valtellina ho concluso, linea allo studio. Siamo tornati, ovviamente la notte si sono rifugiate molte persone e sono rimaste senza un tetto, senza una casa. Qui c'è una signora che si è salvata con un elicottero. Di dov'è signora? Io sono di Napoli, però abito a Villa Pinta, in la ditta Gabel. E con la sua casa? La mia casa, non so, fino al primo piano era tutta allagata. La macchina l'abbiamo persa, è dentro, chiusa in box. Come si è salvata signora? Con l'elicottero, sono venuta a prendere con l'elicottero, me, il bambino e mio marito. Cosa ricordi di quel momento? Quando mi hanno preso con l'elicottero. E dell'acqua che saliva? Anche. Era tanta? Sì. Hai avuto paura? No. Abbiamo un gruppo di militari che ieri ha partecipato alle prime ricerche delle salme sotto l'albergo Gran Vaita di Tartano. Come si presentava la situazione? Era veramente un... cioè, era una tragedia veramente. Voi quante persone avete recuperato? Finora nove. Cioè, noi, il primo pronto intervento del partito, nove persone siamo riusciti a tirare fuori, di cui quelle che abbiamo tirato di noi personalmente, persone anziane, di ragazzi e di donne, cioè, noi non abbiamo visto. Penso che la seconda pattuglia, quando è andata su con l'elicotteri, sicuramente ha trovato altre persone anziane, anche donne, e un ragazzo, così si è sentito dire. Ecco, voi siete giunti sul posto nella mattinata di ieri? Sì, siamo partiti alle quattro di mattina, con la pioggia e un vento incredibile, temporale, acqua, non si... cioè, eravamo bagnati da tutte le parti, fratici, fratici veramente. E fino alle otto, le otto, le nove, che poi ci sono venuti a dare il cambio. Abbiamo prima caricato tutta la gente sopra l'albergo Gran Vaita di Tartano. C'erano gli elicotteri e poi dopo di che abbiamo incominciato con cercare le salme. Ecco, ma pensate che sotto le macerie ci siano altre persone? Senz'altro. Anche lungo il fiume che passa sotto, la gente che era dentro al bar, quando è crollato, sicuramente sarà andata a finire il giro sotto. Ieri, infatti, stiamo parlando con un alpinista, ha detto che giù nel fiume si vede un corpo di una salme che si vedono le gambe uscire dall'acqua. E' un altro che si trova gettato tra i bascoli, tra le frasche. E' una cronaca drammatica, convulsa. In queste ore si lotta per salvare chi è rimasto isolato. Gli elicotteri sorvolano senza sosta la Valtellina, è l'unico mezzo per portare a valle i feriti, raggiungere le zone isolate dall'acqua. E la cronaca racconta mille storie, racconta episodi commoventi, come questo salvataggio, eseguito in condizioni di tempo terribili, in condizioni proibitive. 150 persone, molti bambini, in gita verso Livigno vengono bloccati dall'acqua nella zona di Sant'Antonio, in Alta Valtellina. E' sabato sera. Cercano di rifugiarsi in un cascinale, sfuggono alla furia dell'acqua. L'elicottero li ha raggiunti nel pomeriggio della domenica, dopo 24 ore di inferno. Ecco la testimonianza di una donna raccolta dal collega Giampiero Beltotto. Le drammatiche immagini sono state girate tra mille difficoltà dall'operatore Antonio Leo. Dove c'è il calciasso bloccato dalla strada? Lì, sono lì così tutta la gente. E lì ci sono tre pulmi. Tre pulmi con più 150 ragazzi. Bambini? Ragazzi, non so, perché ci sono bambini che io a 40 giorni, che 3 mesi, che 5 mesi, che 10 mesi. E stanotte come lo avete passato? In un cascinale, senza niente, né mangiare, né niente, né coperte, né niente. Sono solo io la notte che ho passato, la macchina lì in basso che sopportava via, pazienza, amen. E noi ci sono anche i mariti adesso e altra gente qua. E' brutto, è. Più a sud, la vicenda forse più toccante di questa terribile giornata. Siamo all'ospedale di Morbegno, nel reparto maternità. Ecco, Rosa Fazzini, 30 anni, ed Elena, 4 ore. Le ha trovate all'ospedale il collega Maurizio Losa. La donna, al nonno mese di gravidanza, è stata sorpresa nella sua casa a nord di Morbegno, dalle doglie. Ha cercato di raggiungere l'ospedale, ma la strada era interrotta. Stamattina alle 6 sono cominciati i primi dolori e siamo venuti giù, fino a valle, tutto bene. Poi lì a Ardenno ci siamo bloccati. Ecco, come aveva giunto l'ospedale? E' un'ora lì sulla macchina, con le doglie. E poi lì, con questo mezzo dei pompieri. Più a sud, in Val Brembana, nel Bergamasco, le squadre di soccorso stanno cercando di raggiungere l'Alta Valle, isolata dallo straripamento del Brembo e dalle Frani. Qui si contano un morto, Elena, un falegname che è stato travolto dalle acque mentre cercava di mettere in salvo la sua auto. E' una ragazza di 15 anni, dispersa. Sono impegnati nei soccorsi 800 uomini della protezione civile. Si lavora per ripristinare la statale della valle, interrotta in 8 punti. Il tempo è migliorato, ma le autorità hanno lanciato un appello perché nessuno raggiunga le zone disastrate se non c'è una effettiva necessità. Questo per non ostacolare i soccorsi. Un analogo appello è stato lanciato dalle autorità di Como. Qui la situazione è meno grave. Ecco le immagini girate stamani. Il lago però ha invaso la piazza Cavour e le vie del centro. Danni si lamentano ai negozi e agli alberghi che si affacciano sul lago. Nel pomeriggio si riunisce a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri che deve approvare i primi provvedimenti d'emergenza a favore delle popolazioni e a sostegno delle attività economiche delle zone colpite. Il Ministro della Protezione Civile Zamberletti, tornato ieri dalla Valtellina, esporrà i dati sulla situazione che sarà illustrata anche dal Presidente della Regione Lombardia, Tabacci, intervistato stamane dalla nostra redazione di Milano. Presidente Tabacci, lei ha chiesto al Governo un intervento straordinario in denaro e la dichiarazione di calamità naturale, esatto? Esatto, è quello che abbiamo chiesto tenendo conto del fatto che il decreto che dichiara la calamità naturale consente di operare con efficacia e tempestività come capita in questi casi eccezionali. Un primo intervento, almeno di 250 miliardi, anche se i danni sono quantificabili certamente oltre i mille miliardi per il complesso delle attività economiche, delle strutture, delle infrastrutture che sono interessate nelle tre province, in particolare in quelle più colpite, Bergamo e Sondrio. Lei sta per volare a Roma dove sosterrà le ragioni della Lombardia in questa situazione difficile? Ieri con Zamberletti già in Valtellina abbiamo messo a punto una prima intesa, stanotte mi sono sentito con il Ministro Goria, ci si rivedrà nel corso della giornata a Roma per mettere a punto anche un programma straordinario, che se anche non sarà definito in questa seduta del Consiglio dei Ministri, però resta un impegno fondamentale, che è quello di un piano organico per il rilancio sia della Val Vrembana, della Bergamasca interessata, che della Valtellina della provincia di Sondrio. Anche il Trentino Alto Adige è stato colpito da nomi fragi e straripamenti, soprattutto in Alto Adige ci sono stati molti danni e tre persone risultano disperse. Vediamo il servizio della redazione di Bolzano. Un'auto con due giovani altoatesini è stata inghiottita dalle acque in piena del rio Gardena. Sono salite così a tre le vittime dell'ondata di maltempo in Alto Adige. Un altro automobilista era negato sabato sera nel rio Solda, lungo la statale dello Stelvio. Tre vittime, danni per miliardi di lire ai fruttetti pregiati alla periferia di Bolzano e in Val Venosta, la piana di Vipiteno completamente invasa dalle acque, case di roccati in Val Passiria, masi in pericolo per frane e smottamenti, i centri turistici di Solda, Trafoi e altri paesi ancora isolati, la viabilità di montagne sconvolta, la ferrovia Bolzano-Merano interrotta. Questo è il bilancio dell'alluvione in Alto Adige. Nel vicino Trentino è finita la grande paura in Val Rendena. Sono stati evacuati ieri un albergo, una colonia e parecchie case a Caderzone alle porte di Pinzolo. Da 30 ore non piove più, il livello delle acque è calato. Qui siamo a pochi chilometri da Bolzano, dove l'Adige ha sfondato ieri gli argini mangiando per un centinaio di metri la massicciata ferroviaria. Si lavora lacramente per ristabilire i collegamenti fra Bolzano e Merano, mentre si rinnovano gli scambi d'accuse fra organi dello Stato e della provincia autonoma di Bolzano che ha investito fior di miliardi nel settore dei bacini montani.